Questo è l'ultimo gioiellino di Caseco Power, il decespugliatore a batteria tecnologicamente più avanzato della linea. Ha molte particolarità tra cui la tecnologia Power Load e Line IQ. Andiamo a scoprirle. Ciao sono Valerio del Centro Marini Pro Worker e in questo video andremo a vedere il decespugliatore della linea Eco ST1610E-T di Caseco Power. Andando a vedere la parte anteriore del nostro decespugliatore è proprio qui che si sviluppa la nuova tecnologia, anzi le due nuove tecnologie. Tecnologia Power Load ovvero una volta inserito il filo e messo a misura lo potrete inserire e quindi mettere nella vostra bobina automaticamente premendo solamente questo tasto. Il filo si riavvolgerà e si metterà a misura. Una volta prestabilita questa misura la vecchia maniera del batti e vai sarà solamente un ricordo perché perché il filo sarà monitorato e quindi riallungato automaticamente dalla tecnologia Line IQ e quindi eviterà molto stress, perdite di molle, pazienza e impregazioni da parte dell'operatore. In poche parole questo è il decespugliatore più completo della linea Eco Power perché come detto in precedenza racchiude tutte queste particolarità. È pieghevole, estensibile, doppia velocità, doppia tecnologia Power Load e Line IQ ma soprattutto ha il diametro di taglio più grande, quello da 40 centimetri. E nonostante tutto è il decespugliatore che ha il miglior rapporto diametro di taglio autonomia. Vi faccio un breve esempio per farvi capire meglio le sue potenzialità. Prendiamo un esempio, una batteria da 4A è stato stimato che può durare fino a 65 minuti di uso continuo mentre con una batteria a 12A il suo consumo è di fino a 200 minuti di uso continuo, quasi il doppio rispetto al fratello minore ovvero il modello ST1530. Per questo video è tutto, vi lascio i link utili per l'acquisto e per consultare altri contenuti in descrizione. Iscrivetevi al nostro canale e vi ricordo sempre che il Centro Marini Pro Worker è a servizio del professionista.